Morte dei due operai alla Versalice, l'inchiesta a Catania. La Procura Generale di Catania ha avvocato a sé il fascicolo dell'indagine relativa alla morte dei due operai precipitati in un pozzetto mentre eseguitono la videoespezione a un impianto dello stabilimento Versalice di Priolo. La decisione è stata comunicata alle parti del GIP del tribunale Aledeseo Carmen Scapellato in occasione dell'udienza preliminare celebrata ieri mattina. Il PM Tommaso Pagano aveva concluso l'indagine avanzando al giudice la richiesta di archiviazione della posizione degli otto imputati fra dirigenti e tecnici della Versalice, responsabile della sicurezza, amministratore della Xifonia, la ditta agustana dalla quale erano dipendenti del Seracusano Michele Assente e il melillese Salvatore Pizzolo, vittime di quell'incidente sul lavoro. Richiesta a cui l'avvocato Salvatore Cannata, che patrocina la lunga lista delle parti offese, ha proposto opposizione. Il GIP scapellato ha ritenuto dover trasmettere l'intero fascicolo alla Procura generale che ha deciso per la revoca della richiesta di archiviazione e per la conseguente avocazione dell'inchiesta per la quale inizialmente la Procura Aledeseo aveva ipotizzato a vario titolo diversi reati dell'omicidio colposo a quelle connesse alla sicurezza sul luogo di lavoro. I imputati sono Giovanni Aprile, 41 anni, Giuseppe Contarino, 39, Salvatore D'Agostino, di 61, Alessandro Getulli, di 41, Umberto Mancuso, di 39, Sergio Piazza e Vincenzo Strana, di 60, Paolo Zuccarini, di 56. L'episodio avvenne il 9 settembre 2015, anno dopo che è trascorso le 10.30, quando i due operai stavano eseguendo la manutenzione ordinare di un pozzetto della rete fognaria nell'impianto di etilene presso lo stabilimento Versales. Uno dei due operai potrebbe avere respirato l'esalazione di idrocarburi e precipitando nel pozzetto, seguito dall'altro, che avrebbe tentato inutilmente di salvare l'amico e il compagno di lavoro. L'impianto è stato subito bloccato, mentre i colleghi e gli addetti della sicurezza li hanno recuperati, provando a rianimarli con un massaggio cardiaco, ma la caduta e le esalazioni sono risultate fatali per entrambi i lavoratori.